Ciao! Cosa cucinate oggi di buono? Io tottani! Per prima cosa ho pulito i totani. Voi per comodità potete acquistarli anche già puliti. Dopo averli lavati e messi in ciotola ho aggiunto aglio e prezzemolo tritato, pan grattato, un filo d'olio e un pizzichino di sale. Ho posizionato poi i totani nel cestello della frigitrice ad aria. Ho aggiunto un altro pizzichino di sale, un altro giro d'olio e ho cotto. 10 minuti a 200 gradi. Et voilà! Totani impanati pronti! Buonissimi! Dovete assolutamente provarli. Vediamo l'assaggio. Buonissimi! Ciao e alla prossima ricetta!